Il problema di malgestione politica del paese, mio nonno che era un cacciatore siberiano che abitava lontano nei boschi e raramente usciva verso il mondo, mi diceva spesso quando sentiva parlare di politici, mi diceva guarda i politici sono come i miei cani da caccia, tutti hanno diversi macchi, diversi colori, ma rispondono a questo fischietto, tutti quanti, indipendentemente da che colore hanno, quindi politica internazionale è questa, c'è un fischietto, finanza, interessi, soldi, questi famosi potenti di cui ho parlato prima Gino e poi attorno si costruiscono delle situazioni e ci sono diverse politiche che propongono diverse soluzioni. Grazie.